Poi i nomi, mi conosco qualcuno ma non tutti, Daniele, Andrea, Francesco, Alessandro, Danilo, ne matano quattro e poi mi dice Sandro, dei ragazzi. Il primo saluto va a Elena che purtroppo si è ammalata, l'applauso per me, ero un po' fortino nonostante noi, eravamo caldi per la musica classica. Non sono dei professionisti al 100% ma al 99%, questi sono i gioielli della scuola Angel Salzero, il loro istruttore è Sandro Broda. Un applauso ci vuole, abbiamo fatto la Elena ma anche per Sandro, il loro istruttore. Poi la cosa che più ci tenevamo un po' tutti, soprattutto Sandro, me e chi ha conosciuto molto da vicino e tanti, credo di voi, lo conoscevano, purtroppo un momento un po' così, però questo spettacolo lo vogliamo dedicare interamente a Giorgino che non ci ha preso troppo. Giorgino, guardaci che siamo tutti in un via per te! Era sempre presente, perché la sua sinistra è un po' così particolare, diciamo proprio così. Grazie Benedetto, come si può dire, noi andiamo avanti e vi presento i ragazzi della scuola Angel Salzero con il loro bello spettacolo. Pronti ragazzi? Aspetta Salzero, vai! Posizione si dice in gara, eh? Un applauso e poi inizio, via! Un applauso e poi inizio, via! Un applauso e poi inizio, via! Un applauso e poi ai благopi nutrivali avanti e oltre anche noi. cold turbo inizio, via! Egli questa dose di sistema e poi inizio, via! Anche se che il momento, tu lo puoi adorzare, tu veras E' un rumbo che non si può aguantare Però mi pezzo, però mi pezzo è il rumbo E' un rumbo che non si può aguantare 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Complimenti anche per il vestitino delle carigelle, che è bellino, bello, bello, bravi, anche gli uomini molto allevanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.